Questa sera è una sera speciale dove ci sono tanti colleghi iniziando dal nostro architetto Diego Granese, soprattutto grandi amici, è il mio ospite al Tre Olivi stasera, grande Michele De Leo che per me è un piacere che sta qua con noi, speriamo di fare bella figura stasera, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, speriamo di fare tutte le figure, mettiamocela tutta perché sta per iniziare la serata, poi salutiamo tutti i ragazzi che lavorano questa sera in cucina, iniziando da Giovanni, Alfonso, collaboratore di Michele De Leo, dello chef Michele, c'è il nostro Giuseppe, buonasera a chi? E poi c'è il talebano qua, mi raccomando, impegniamoci questa sera, va bene, poi c'è tutta la nostra brigata di sala e anche grazie a loro facciamo bella figura, dici buonasera a tutti, grazie ragazzi, buon lavoro, di pasticceria, hai ragione, mi dimenticavo la pasticceria, ma perché la pasticceria non ha bisogno di presentazioni, non è perché stavo indicando di presentarmi, come ti chiami? Vincenzo, da Palazzo Avino, il grande Antonio, non di statura però, è il nostro pasticciere del Treolivi, Leo Bottiglieri, buon lavoro a tutti!